Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine della terza sezione della Procura di Napoli, ha dato esecuzione, tra Ischia, Forio e Casamiccio la Terme, ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Partenopeo, con la quale è stata applicata una misura cautelare degli arresti domiciliari e un divieto di esercitare imprese a carico di altrettanti imprenditori coinvolti nel fallimento della Ischia Terme SRL. I reati ipotizzati sono banca rotta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le indagini condotte dai finanzieri della tenenza di Ischia hanno permesso di fare luce sul dissesto finanziaro della nota società, operante nel settore della fabbricazione e commercializzazione dei cosmetici, dichiarata fallita nel luglio 2016 dal Tribunale di Napoli. Sono stati disposti gli arresti domiciliari per l'amministratore di fatto della società, mentre alla sorella dell'imprenditore, utilizzata a quale prestanome, è stata applicata la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese per sei mesi. Il complesso meccanismo architettato dagli indagati, secondo l'ipotesi degli inquirenti, consisteva nell'utilizzo di una serie di società collegate e intestate a prestanome compiacenti e riconducibili all'arrestato, che avevano come unico scopo la massimizzazione dei profitti. Il meccanismo fraudolento, posto in essere, consisteva anche nel distruggere scritture contabili obbligatorie della società, in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio fallimentare. Accumulato nel tempo, un debito tributario di oltre un milione di euro. Le società tuttora operanti saranno ora gestite da un amministratore giudiziario, nominato dal Tribunale per assicurarne la continuità aziendale e la tutela dei posti di lavoro.